Sarà un tentativo di far vedere che quelle contrapposizioni di cui in realtà il titolo di questa rassegna è un esempio, che mi sembra che sia idee e pregiudizi, sono contrapposizioni che esistono ovviamente, che però forse sono semplicemente il sintomo di qualcosa di un po' diverso, cioè il fatto che gli uomini, come diceva un poeta, Coleridge, diceva che gli uomini nascono platonici o aristotelici. C'è poco da fare, uno nasce in quel modo, come uno che nasce biondo e l'altro che nasce bruno. Non è che uno può scegliere, può tingersi i capelli, però tingersi non cambia quello che è la realtà dei fatti. E cosa vuol dire essere platonici o aristotelici? Secondo me la contrapposizione fra le idee e i pregiudizi è esattamente la contrapposizione fra Aristotele e Platone. Naturalmente al posto di idee si sarebbero potuti usare altri vocaboli, altri termini, per esempio concetti o giudizi che sono più o meno, beh oddio, dipende come uno li definisce, e poi ci sono stati filosofi che hanno dato ciascuno la propria interpretazione. Però idee, concetti, giudizi stanno da una parte, ci fanno pensare a cose che arrivano, se vogliamo dirla in termini fisiologici, dalla metà sinistra del nostro cervello, dall'emisfero sinistro, anche se oggi quella distinzione fra destro e sinistro, anche fra destra e sinistra, ma quella è un'altra questione, ma fra destro e sinistro, cioè nel cervello, è un po' passata di modo, perlomeno è stata un po' raffinata, non è così netta come si poteva pensare una volta, e anche questo è un esempio di quello che stavo dicendo agli inizi, quando sono partita. Quindi idee, concetti, giudizi stanno da una parte, dall'altra parte che cosa ci stanno? Le cose sono contrarie a quelle, contro i concetti ci stanno i pre-concetti, contro i giudizi ci stanno i pre-giudizi, e contro le idee non c'è proprio una parola che ci vada contro, però Oriana stasera ne ha citata una che potrebbe essere appunto il contrapposto delle idee, che sono le superstizioni. Ora però, se uno guarda per esempio l'etimologia delle parole, si accorge che queste parole in realtà una volta significano cose molto diverse, per esempio idea che noi usiamo continuamente, per l'appunto anche nel titolo appunto di una rassegna, in realtà quando Platone l'ha usata nei suoi dialoghi, che deriva da Eidos, Eidos voleva dire in realtà una cosa un po' diversa, voleva dire forma. Forse qualcuno sarà sorpreso di sapere, soprattutto coloro che hanno studiato filosofia, saranno sorpresi, gli altri non lo sanno, quindi non sanno che cosa dice Platone. Però pensare che il motivo per cui Platone ha sviluppato la sua teoria delle idee, per l'appunto, era un motivo scientifico. C'era la matematica ormai da molti secoli, in realtà da millenni però, la matematica greca fatta di teoremi, di dimostrazioni, di assiomi, di argomenti, eccetera, e soprattutto di oggetti matematici, che erano gli ovvi oggetti che uno può pensare quando pensa alla matematica, cioè i numeri da una parte e le figure geometriche dall'altra. E i numeri erano passati di moda, perché andavano di moda all'epoca, un paio di secoli prima, all'epoca di Pitagora. Poi, come forse qualcuno saprà, Pitagora scoprì delle cose indicibili, delle cose che non si dovevano nemmeno divulgare. Scoprì che i numeri non erano sufficienti per descrivere la realtà. Per esempio, scoprì che se voi prendete un quadrato e fate la diagonale del quadrato, non c'è nessuna unità di misura che sta a un numero esatto di volte sia nel lato che nella diagonale. Questo è strano, perché uno potrebbe dire, beh, certo, la diagonale è più lunga, magari però prende una misura piccola a sufficienza, in modo che poi magari qui ci stanno 50 volte, qua ce ne stanno 30, così via. Invece la famosa scoperta degli irrazionali portò appunto i greci a capire che c'erano quantità che non si potevano misurare con la stessa unità di misura. Erano quello che si chiamavano incommensurabili, non c'era una misura che permetteva di misurarle entrambe. E allora cosa fecero? Fecero quello che gli psicanalisti, mi dicono che sono già passati altri psicanalisti, no, altri non nel senso che io sia, ma ci sono stati degli psicanalisti anche in questa rassegna, fecero una rimozione, come l'avrebbe chiamata Freud. Cioè decisero di non parlare più dei numeri, poiché i problemi erano nati con la geometria, uno dice parliamo solo di geometria, non cerchiamo di fare la geometria mettendoci dentro i numeri, e noi siamo contenti di quello. E dopo un paio di secoli appunto, quando arrivò Platone, lui si fece la domanda ovvia che si poteva fare, dice ma che cosa sono questi oggetti della geometria? La geometria parla di triangoli, di quadrati, di cerchi, di figure appunto geometriche, di curve, e lui si pose il problema, ma cosa sono questi oggetti? Uno potrebbe dire, beh, sono oggetti come gli altri che vediamo nel nostro mondo, ci sono le pietre, ci sono gli orologi, le cose, che ci stanno intorno e ci sono anche i triangoli. Chi di voi non ha mai visto un triangolo, o un quadrato? E Platone, se fosse stato qui, o il suo Socrate, che era l'uomo di cui lui faceva il ventriloco, lui diceva di parlare in nome di Socrate, avrebbe fatto delle domande, dice ma siete sicuri di aver mai visto un triangolo? E tutti probabilmente direbbero, beh, certo, l'abbiamo visto, se non l'abbiamo visto ve lo disegnavo adesso e lo vediamo. E Socrate avrebbe continuato a dire, non so mica così sicuro, perché cosa dicono i matematici dei triangoli? Che sono fatti di tre segmenti, tre segmenti retti, cioè i punti sono messi tutti in fila, uno all'altro, in modo che se uno li guarda in prospettiva ne vede uno solo. E se uno guarda il triangolo che qualcuno di voi ha in mente, che è disegnato su un foglio di carta, per esempio, che è fatto di pezzettini di grafite, se uno lo guarda col microscopio, poi si accorge che questi pezzettini di grafite, certo, quando uno li allarga, sono tutt'altro che messi in fila. E uno può dire, vabbè, uso la microtecnologia, la nanotecnologia, ci mette insieme degli atomi, tutti vengono in fila, ma non ci riesce a fare quello che veramente è un triangolo. Cioè, in altre parole, se uno ci pensa bene, i triangoli non esistono nel mondo reale. E allora Platone si chiese, non esistono, ma noi ne parliamo, dove stanno? E allora inventò questa idea, questa teoria, che si chiama appunto teoria delle forme, perché Eidos appunto voleva dire forme, la teoria delle forme geometriche. Queste forme geometriche non stanno in questo mondo, dunque devono stare in un altro mondo, che è un mondo che poi oggi noi chiamiamo ideale, perché la parola che lui usava era quella, che però vuol dire appunto, stanno là, lui lo chiamava l'iperuranio, qualche cosa che stava, una specie di paradiso laico, diciamo così, in cui invece degli angeli, degli arcangeli, cherubini, serafini, eccetera, ci stanno i triangoli, i quadrati, i cerchi, in astratto. E poi però si chiedeva, ma allora se sono là, sono distanti da qua, qual è la relazione che c'è fra ciò che sta lassù e ciò che sta qua giù, tra quella specie di simulacro, come lo chiamava lui, di triangolo, che noi disegniamo per terra, col bastone, oppure con la battita sul foglio, e il triangolo ideale che sta lassù. e lui dice, vabbè, è una relazione di proiezione, cioè le figure che stanno lassù si proiettano su questo mondo e quelle che noi vediamo sono come delle ombre e di lì il mito della caverna, per esempio, che forse qualcuno di voi avrà sentito raccontare o avrà letto dei dialoghi di Platone e così via. Quindi vedete che Platone introduce un mondo che non c'è, introduce l'aldilà, che non è l'aldilà come lo intendiamo oggi nelle religioni, però è qualche cosa che sta di là. E non ha niente a che vedere con questo mondo se non per il fatto che in qualche modo si riflette su questo mondo e il fatto che la matematica poi si possa applicare alle cose che ci stanno intorno e che quindi la usino per esempio i geometri o gli architetti o gli ingegneri e così via deriva da questo fatto, che questo mondo in realtà è una proiezione di un mondo di tipo matematico. E infatti Platone aveva scritto sull'Accademia, aveva fatto scrivere naturalmente, c'erano gli schiavi all'epoca che facevano questo, lui pensava, la divisione è sempre stata quella, i filosofi pensano e gli altri lavorano, anche oggi succede così. E aveva fatto scrivere questa frase sull'Accademia e diceva non entri qui chi non conosce la geometria. E l'idea era che Dio, la divinità diciamo, era un Dio che geometrizza sempre, cioè era un geometra, ma nel senso non che aveva il diploma di geometra come me, non mi sognerai mai di dire di essere Dio, però era il grande geometra. Se qualcuno di voi è massone o si ha sentito parlare dei massoni, saprà che il simbolo della massoneria è proprio quello, il Dio geometra. C'è addirittura la G, nel simbolo della massoneria, c'è una squadretta e un compasso, come mai? Perché la squadra e il compasso erano i due strumenti che usavano i greci per disegnare le loro figure e così via. Quindi Platone punta in su, verso l'alto. E se voi andate a Roma, per esempio, nelle stanze di Raffaello, qualcuno ci sarà stato quando entrate nei musei vaticani, ad un certo punto passate in queste stanze, che si chiamano stanze di Raffaello, e sono state appunto dipinte, affrescate da Raffaello, e in una di queste stanze c'è questo grande dipinto che si chiama La Scuola di Atene, dove ci sono tutti i filosofi che nel Rinascimento si conoscevano, qualcuno si era perduto, ci sono anche gli scienziati, c'è Talete, per esempio c'è Pitagora, non c'è Archimede, perché di Archimede si era quasi perduta notizia, e soltanto in seguito poi le sue opere sono state ritrovate. E in questo dipinto, diciamo, in questa raffigurazione delle scuole d'Atene, ci sono tutti appunto questi messi intorno così, tra l'altro quella è una meravigliosa applicazione della matematica alla pittura, in quel caso lì, è un classico esempio di prospettiva centrale, e dove va il punto di fuga della prospettiva centrale? Va a finire in mezzo alle due figure che stanno al centro di questa figura, che sono in piedi, maestose, tutte con i loro capelli lunghi, la barba lunga, e così via, e che sono Platone da una parte e Aristotele dall'altra. E Platone appunto punta col dito in su, perché dice io guardo lassù, guardo all'altro mondo. E invece Aristotele ha il dito che punta in giù, il libro che ha sotto braccio, e la sua etica, l'idea che si potesse descrivere, si potessero descrivere le regole del comportamento umano in una maniera razionale. E invece Platone c'aveva il timeo, che era un dialogo pitagorico, in cui lui raffigurava l'universo attraverso quelli che si chiamano, per quel motivo, proprio perché lui ha usato quel dialogo, che si chiamano solidi platonici. Lui associava gli elementi, i greci erano fortunati gli antichi, noi se dobbiamo studiare gli elementi, andiamo al corso di chimica, e ci dicono, ah sì, gli elementi più usuali sono 92, c'è la tavola di Mendeleev, dobbiamo imparare quanti protoni hanno nel nucleo, quanti elettroni hanno, eccetera. E poi ce ne sono molti altri, la tavola finora arriva fino a 118 elementi, e può arrivare in teoria perlomeno fino a 137, oltre no, si sa che più di 137 elementi non ci possono essere, per motivi che se volete, nelle domande vi chiedete e vi dirò. Ma i greci invece avevano una tavola degli elementi molto semplici, avevano quattro elementi, terra, aria, acqua e fuoco. E Platone aveva cinque solidi, che erano il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro, erano troppi, perché gli elementi erano quattro e i solidi erano cinque. Lui ne prese quattro e li associò ai quattro elementi, e l'ultimo che gli rimaneva in mano, che era il dodecaedro, lo associò all'universo. E questa era l'idea di Platone, che la matematica potesse descrivere il mondo, però la matematica era qualcosa che stava lassù, e invece Aristotele qualcosa che guardava qua giù. Questa è l'idea. Le idee di Platone sono in realtà il contrario di quello che oggi noi chiamiamo idee, cioè di qualche cosa di razionale, sono qualche cosa di irrazionale nel senso che non appartengono nemmeno a questo mondo. Sono quello che noi chiameremo la metafisica. E la metafisica sta contrario alla fisica. Quando uno dice idee e pregiudizi, idee e preconcetti, potrebbe dire semplicemente fisica e metafisica. I preconcetti, i pregiudizi, le superstizioni, stanno tutte nella metafisica. Ora non so quanti di voi saranno d'accordo su questo, ma metà probabilmente. Non so se vi siete già divisi tutti i fisici da una parte e tutti i metafisici dall'altra. Però la maggior parte della gente, cioè coloro che non studiano le scienze, e la fisica per i greci era quello, la fisica era la natura. Quindi oggi la fisica è qualcosa di estremamente circoscritto, studia una certa parte della natura, il livello delle particelle, così poi quando si sale agli atoni arriva la chimica, quando si sale alle molecole arriva la biologia, e così via. Oggi la scienza è stratificata. Ma per loro era tutto, tutto lo studio della natura, fatta con i mezzi razionali, con quelli che oggi noi chiameremmo la scienza. E la metafisica invece, e purtroppo per noi, è tutto il resto. La contrapposizione è tra coloro che studiano le cose attraverso la ragione, diciamo così, e coloro invece che vedono il mondo attraverso l'istinto. che sono però due cose complementari, non è che siano l'un contro l'altra armata, sono due modi diversi di vedere il mondo. Ora però certo che se uno dice che la metafisica, che contiene tra l'altro praticamente tutto, tutto ciò che è inventato, tutto ciò che non sta nel nostro mondo reale, fisico, e quindi l'umanesimo per esempio, le arti, la pittura, la musica, la filosofia, la religione, tutto quello di cui noi ci cibiamo praticamente. Perché quando guardiamo un film, quando leggiamo un libro, quando guardiamo un'opera d'arte, tutto quello è là, sono mondi ideali, ideali appunto nel senso di Platone, hanno poco a che fare con il nostro mondo, nella migliore dell'ipotesi hanno a che fare nello stesso modo in cui Platone ce lo diceva, come proiezioni, sono raffigurazioni ideali di quello che poi in realtà c'è nel mondo in cui viviamo. i romanzi raccontano storie, ora va benissimo raccontare storie, ci mancherebbe altro, però bisogna sapere che sono storie, non bisogna crederci, perché poi se uno crede alle storie, poi si dice che va dietro e conta storie, e finisce male, naturalmente. La religione per esempio, la religione anche essa, e là ci parla dell'altro mondo, di dove si era prima della nascita, di dove si andrà dopo la morte, come se noi non sapessimo che in realtà prima della nascita non c'eravamo e dopo la morte non ci saremo. Quindi, insomma, dove vai? Esattamente da dove venivi? Non ti preoccupi da dove sei arrivato, perché ti dovresti preoccupare di dove andrai, che è lo stesso posto tra l'altro, appunto, cioè da nessuna parte. Però quelle cose lì sono quelle che ci affascinano, sono quelle che in realtà, appunto, ciascuno di noi fruisce come spettatore. Sono le cose belle anche della vita, tra l'altro, perché la ragione in un certo senso è arida, è qualche cosa di freddo, si dice, anzi, molti odiano addirittura la matematica. Ci sono scrittori, filosofi, religiosi, eccetera, che pensano che sia semplicemente il linguaggio del diavolo, in un certo senso. E hanno ragione, perché diavolo cosa vuol dire? La parola diavolo, tra l'altro, come forse sapete, non c'è nella Bibbia, perché è una parola greca, e non ha niente a che fare con quegli esseri un po' da film dell'orrore, che si rappresentano ogni tanto nell'arte sacra, no? quando uno va a vedere tutti questi capolavori, l'ultimo, il giudizio universale, per esempio, e così via, vede questi esseri, no? Strani così. Diavolo è una parola greca che indicava il cuneo, capite quelle, no, una cosa fatta a cuneo, che serviva per spaccare le pietre. Uno metteva il cuneo dentro una piccola spaccatura della pietra, poi gli dava un colpo col martello, e questo faceva appunto da cuneo e spaccava. E diavolè era quello, era la divisione. E che cosa c'è di diabolico nella divisione? Beh, questo è interessante perché Dio quando parla, in realtà Dio non ha distinzioni nella sua mente, e se esistesse Dio, e se Dio avesse una mente, non avrebbe distinzioni. Dio parla in maniera onistica, siamo noi che parliamo per contraposizioni, il bene, il male, il brutto e il bello, il buono e il cattivo, e così via. E infatti, l'albero che c'è nel giardino dell'Eden, che cosa dice Dio? Non mangiate quel frutto, perché poi saprete la distinzione fra il bene e il male, o fra il vero e il falso. Dio non voleva che gli uomini sapessero queste cose, perché sarebbero vissuti senza coscienza praticamente. Ma coscienza è quello che ci dice cosa sta da una parte, cosa sta dall'altra, perché siamo noi che dobbiamo scegliere da che parte andare, da che parte sta il bene e da che parte sta il male. E quindi vedete che c'è questa contrapposizione, le idee, i preconcetti, sono quelle cose lì. Pascal aveva un modo diverso di raccontarla, e questo lo dico per far vedere che in realtà, benché le parole siano negative, preconcetto, pregiudizio, superstizione, eccetera, in realtà poi, sono cose che tutti noi abbiamo. e Pascal lo diceva con quelle cose che molti di voi avranno letto, se siete golosi soprattutto, perché le scrivevano una volta, io adesso purtroppo non posso più, col colesterolo, ma dentro i Baci Perugina, quando ha privato i Baci Perugina, c'era sempre questo pezzettino, un po' come i Fortune Cookies, dei cinesi, che ce l'hanno copiato da noi, che si aprono e dentro c'è una massima, è una delle massime più famose dei Baci Perugina, è quella che poi si usa sempre da parte degli umanisti, dei religiosi, eccetera, per dire qualche cosa che gli scienziati dovrebbero conoscere, e cioè che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. Quella è una frase bellissima, e che cosa voleva dire Pascal? Pascal era un matematico, prima di battere la testa, proprio nel senso letterale, perché come voi saprete, ad un certo punto della sua vita, Pascal era in carrozza a Parigi, è passato su un ponte, il Ponte d'Oilly, e questo ponte aveva ovviamente delle buche, la carrozza con una ruota andò a finire dentro una buca, Pascal diede un colpo di testa, così, e da quel momento effettivamente ebbe dei problemi, poi gli fecero poi l'autopsia, dopo morto ovviamente, come di solito si fa, e scoprirono che effettivamente aveva una lesione cerebrale, che gli procurò dei guai enormi, per esempio aveva problemi a sedersi come mi siedo io, come mi sedete voi questa sera, non nel senso della posizione, ma se non era vicino a una parete si sentiva cadere nell'abisso, e così via, cioè oggi noi magari ci scherziamo su queste cose, ma dal punto di vista psicologico, psichiatrico, doveva essere una vita molto dura, e soprattutto nell'ultima parte della sua vita divenne un religioso fanatico, chi di voi ha letto i pensieri di Pascal, si sarà accorto che, a parte alcune frasi come questa qui che vi ho citato, il resto sono cose che fanno aderizzare i capelli, per una persona come lui, che aveva fatto dei teoremi meravigliosi nella matematica, che era stato uno degli inventori della geometria proiettiva, del calcolo infinitesimale, e poi succede così, ogni tanto qualcuno ha incidenti, ma cosa voleva dire Pascal, in quel frammento dei pensieri, in cui dice appunto che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce, stava parlando di matematica, tra l'altro, questo se lo dimenticano tutti quelli che citano questa frase, anche perché forse l'hanno letta solo facendo un peccato di gola, mangiandosi il paccio perugina, e altro non sono andati a vedere, ma è una mezza pagina, in cui lui dice noi matematici, sta parlando di matematica, dice noi dimostriamo dei teoremi, ora come si dimostrano i teoremi? Si parte dagli assiomi, e poi si segue la ragione, eccola qua, una dei due corni del dilemma, le idee, seguo la ragione, le regole della logica, vado dagli assiomi, non fino alle conclusioni, quelle sono le ragioni della ragione, ma il problema è che queste ragioni della ragione, cioè i teoremi, le verità, in particolare le verità matematiche, non sono assolute, l'ho appena detto, si parte dagli assiomi, e gli assiomi come si dimostrano? E gli assiomi, se si dimostrassero sarebbero dei teoremi, non sarebbero degli assiomi, Aristotele, che ho citato prima, che guardava giù, diceva, se uno volesse dimostrare gli assiomi, lo dovrebbe fare partendo da altri assiomi, i quali a loro volta dovrebbero essere dimostrati partendo da altri assiomi, non si arriverebbe mai alla fine, e lui diceva, è segno di buona educazione sapere quando fermarsi, che è una bella frase che si può usare in tanti campi, compreso quello mio, questa sera, ad un certo punto, mi fermerò, continuo a guardare l'orologio, vedendo il tempo che passa, ma questo lo sapevo che passava, ma sapendo anche esattamente quanto tempo sta passando. E allora cosa dice Pascal? dice, beh, noi partiamo dagli assiomi, ma poiché gli assiomi non li possiamo dimostrare, li dobbiamo scegliere in un altro modo, non attraverso la ragione, e lui dice, li scegliamo attraverso il cuore, ora non so quanti di voi avrebbero associato, senza sapere quello che diceva Pascal, letteralmente, il fatto che la scelta degli assiomi della matematica viene dal cuore, quante parallele passano per un punto che sta fuori da una retta, e dice, lo sento col cuore, ne passa una sola, va bene, ok, ognuno ha il cuore che ha, però voleva semplicemente dire che in realtà lui usava cuore come parola, era un antropomorfismo, voleva dire, lo si fa con l'intuizione, e l'intuizione, essendo appunto un'intuizione, non può essere un ragionamento, sono due cose diverse, le idee sono dalla parte della ragione, si fanno i ragionamenti, dall'altra parte ci stanno i preconcetti, o i pregiudizi, e cosa vuol dire preconcetto? Vuol dire che sta prima dei concetti, o i pregiudizi, sono quello che sta prima dei giudizi, i giudizi si danno sulla base di punti di partenza, che sono dei pregiudizi, e allora intesi in questo senso, che credo non fosse il modo in cui lo intendeva Arianna quando ha scelto questa contrapposizione, in questo senso i pregiudizi sono importanti tanto quanto i giudizi, perché sono quelli da cui si parte per dare dei giudizi, noi spesso ci illudiamo che i giudizi che diamo siano giudizi assoluti, e allora pensiamo qui ci sono i giudizi e qui ci sono i pregiudizi, mentre invece dobbiamo ricordarci che i giudizi sono relativi, sono relativi ai pregiudizi che noi abbiamo, per esempio, mi immagino, non parleremo di questo stasera, ma mi immagino che ciascuno di voi avrà le sue idee, per esempio, sulla guerra che si sta facendo in Ucraina, come mai la popolazione, l'opinione pubblica è spaccata in due, c'è chi crede una cosa e chi crede l'altra, tutti pensano di avere ragione, perché tutti pensano che i loro giudizi siano giudizi assoluti, che ci sia il vero e il falso da una parte e dall'altra, che si possono distinguere, e nessuno si mette nella situazione di pensare che dire sì, io do questo giudizio, quello che penso io su questo, per esempio, su chi ha ragione nei due campi, ma quello che penso io è un mio giudizio che parte da un mio pregiudizio e invece tu hai un altro giudizio perché parti da pregiudizi diversi, ma i pregiudizi essendo pre e non si possono scegliere, ognuno, come appunto per la citazione che ho fatto agli inizi, ognuno nasce platonico, aristotelico a seconda di cosa uno sente, poi deduce le proprie idee, ma se l'altro sente diversamente, se uno per esempio va al ristorante, non è che uno può dire ah, questo piatto non mi piace, questo gusto non mi piace, come si sa, i gusti, sui gusti non si disputano, ciascuno ha i suoi, e purtroppo nei ragionamenti è esattamente la stessa cosa, ciascuno ha i suoi assiomi, i matematici questo lo sanno bene perché addirittura, come a volte voi sapranno magari, ci sono geometrie diverse, ho citato adesso come esempio quello della sioma delle parallele, c'è una retta, un punto fuori di essa, se uno dice una parallela sicuramente ci passa perché faccio la perpendicolare e la perpendicolare, ma ce ne passa una sola? dipende, come il tuo cuore appunto, come diceva Pascal, se il tuo cuore ti dice c'è una sola parallela, allora tu sei nell'ambito della geometria euclidea, che era quella che i greci credevano che fosse vera, perché non avevano capito appunto quello che sto dicendo adesso, non perché lo dico io stasera e me lo sono scoperto così da poco, ma perché? Ah, tra l'altro, sentite, qualcuno è intervenuto, i logici ad esempio pensano che anche i cani pensino e non tutti per esempio sono d'accordo, credo che molti di voi non siano vegetariani per esempio, chi non è vegetariano difficilmente ama gli animali, fino al punto da pensare che siano esseri che hanno la stessa dignità degli esseri umani, se li mangiano, li alleviamo proprio per quel motivo e così via, però i greci avevano delle strane idee, Crisippo che era uno dei grandi esponenti dell'antica Stoa, lo stoicismo che noi conosciamo è quello più tardo, quello romano, Marco Aurelio per esempio o Seneca, però ce n'erano di stoici in Grecia tre secoli prima e Crisippo un giorno scrisse un libro in cui diceva che aveva visto un cane che stava inseguendo una preda e le correva dietro alla preda e ad un certo punto l'ha persa di vista e Crisippo era lì che stava guardando e dice che la preda è arrivata di fronte a un trivio dove c'erano tre strade che si dipartivano e allora il cane annusa dalla prima strada sente che di lì non è passata la preda annusa la seconda strada sente che anche di lì non è passata la preda e voi direste che cosa fa annusa la terza strada e dice è di qui e corre dietro no lui annusa la prima annusa la seconda sente che non è di lì parte e Crisippo dice vedete il cane sapeva che A o B o C ma non A non B dunque C queste cose qui non so se effettivamente adesso potremmo chiedere a questo cane se è d'accordo con noi se veramente usa questi strumenti anche lì ma questo è uno scherzo fino ad un certo punto perché in realtà quello che noi pensiamo non è che ci viene di nuovo da Dio dall'aldilà dall'iperuraneo e così via noi pensiamo molti di voi credo qualcuno perlomeno sicuramente è ancora cartesiano pensa che ci sia una divisione fra il corpo e la mente che sono di nuovo due esempi di questa contrapposizione il corpo è quello che si guarda col dito all'ingiù no è carne diciamo così è materia fa parte della natura ma la mente molti pensano che sia qualcosa che bisogna indicare col dito all'insù perché perché c'è il mito naturalmente che l'anima come la si chiama nelle religioni sia stata soffiata dentro il corpo direttamente da Dio e se Dio non ha soffiato là quello non c'ha l'anima oggi noi la chiameremmo in maniera un po' più scientifica mente però ormai la scienza sta decostruendo queste idee la mente è un'idea metafisica pure quella è un'idea da cui noi partiamo non è che abbiamo trovato che c'è la mente sezionando il corpo e così via ci siamo accorti che quando il corpo si dissolve in realtà si dissolve pure la mente è come un albero che comincia molti di voi avranno avuto dei parenti o ce l'avranno adesso con problemi di memoria o di demenza senile o di alzheimer e vedranno che non è che da un giorno all'altro si perde completamente la coscienza perché se n'è andata e invece no è come gli alberi che perdono le foglie una dietro l'altra e alla fine ad un certo punto non si scopre che di foglie ne sono rimaste così poche oppure nessuna e che l'albero è diventato spoglio ebbene diceva appunto questa divisione fra corpo e mente è di nuovo una delle grandi contrapposizioni tra idee e superstizioni tra l'altro anche superstizioni è una parola che si può interpretare in senso benevolo così come ho interpretato il pregiudizio e il preconcetto perché superstizione se voi guardate l'etimologia vuol dire semplicemente sovrastruttura superstizio stare sopra ciò che sta sopra e allora di nuovo questa è una è una contrapposizione ci sono coloro ai quali interessa soltanto la struttura delle cose io guardo una roba per esempio la guardo dal punto di vista della chimica o della biologia guardo quali sono le molecole con cui è costruita lo guardo dalla chimica le molecole sono fatte di certi atomi lo guardo dal punto di vista della fisica gli atomi sono fatti di particelle lo guardo dal punto di vista della matematica o della fisica matematica le particelle gli atomi le molecole seguono certe leggi e così via questa è la struttura del mondo molti si accontentano di quello dicono a me basta non voglio saperne altro perché questo è tutto quello che c'è ed hanno ragione in questo però oltre quello che c'è uno ci può mettere sopra qualche cos'altro una sovrastruttura è come quando magari appunto c'è un pezzo di piazza uno ci mette fuori il dehors quella è una sovrastruttura infatti i comuni chiedono poi le tasse sulla sovrastruttura che voi avete posto allora in questo senso la sovrastruttura è semplicemente qualcosa che si aggiunge e infatti per esempio i credenti con cui io spesso appunto dialogo e spesso anche magari un po' discuto non soltanto dialogo mi dicono proprio quello mi dicono ma vedi ma tu guardi il mondo soltanto dal punto di vista appunto della struttura usando i termini che stiamo usando adesso noi ci mettiamo di più abbiamo di più il problema è che uno che ce lo mette poi non significa che quello ci sia cioè quella potrebbe essere appunto un'illusione e coloro che non credono a queste sovrastrutture o a queste superstizioni pensano che sia semplicemente un'illusione però se un'illusione fa vivere meglio perché non seguirla per esempio le religioni sono nate con l'illusione con la superstizione dell'aldilà soprattutto per coloro che muoiono perché poi anche i credenti credo che cerchino sempre benché a parole in teoria dovrebbero soltanto sperare di morire più presto possibile per finire in paradiso e togliersi da questo luogo di lacrime che è la terra poi in realtà siamo tutti compresi i credenti ben attaccati su questa terra e ce ne andiamo il più tardi possibile in parte sarà perché se uno è veramente credente non è che abbia l'assicurazione di andare su c'è anche un giù nell'aldilà e quindi magari dice insomma magari finisco dall'altra parte in mezzo ai diavoli anche se non esistono sono soltanto unei però magari mi potrebbe male ma dall'altra parte secondo me c'è anche un po' credo il risultato del fatto che in fondo nessuno crede veramente perché le cose che crediamo sono quelle che tocchiamo con mano infatti non a caso ci sono queste espressioni le vediamo nei nostri occhi tocchiamolo con le nostre mani e così via uno si può illudere che ci siano queste cose e naturalmente se si illude vive meglio perché magari una persona cara muore se ne va e l'idea che non la vedrai mai più che non avrai mai più la possibilità di parlarle e così via e quella è una cosa difficile da sopportare c'è gente che non la sopporta come sappiamo a volte la pena è così grande che si finisce addirittura di decidere di non voler più soffrire ma questa via di mezzo che per sopportare il dolore uno si inventa dei luoghi che non esistono in cui spera che i propri cari sono finiti e poi spera magari di tornarci pure lui se quello fa vivere bene e soprattutto fa morire bene se la gente si accontenta va bene il problema è che non è una scelta questo la fede non è una scelta ma è quello che continua a ripetere di quella citazione di Coleridge è nascere in un modo o nell'altro sono coloro che nascono platonici nel senso appunto generalizzato di questa parola che poi hanno tutte queste belle cose dall'altra parte in aggiunta a quelle che invece tutti noi abbiamo perché in parte siamo aristotelici naturalmente tutti in un certo modo questo era quello che volevo dire naturalmente ero partito con l'idea perché a tavola parlavamo facevamo pettegolezzi in realtà che appartengono alla parte superstizione dei pregiudizi dei preconcetti su alcuni colleghi che sono venuti a parlare con i quali tra l'altro sono amico vedo che Oriana preoccupata si avvicinano al tavolo al cosa hai finito quindi non cominciamo queste cose però la cosa interessante che io ho molti amici che fanno che condividono diciamo così questa compagnia di giro che siamo un po' diventati andiamo a fare conferenze da una parte dall'altra ognuno ha il suo ruolo ci sono coloro come me che cercano semplicemente di riportare diciamo così il discorso su cose concrete sulla parte appunto che guarda in giù sulla struttura sulla ragione e così via e ci sono quegli altri invece che si divertono perché si divertono molto più di noi perché noi siamo costretti dalle leggi della ragione che sono inflessibili mentre invece le leggi dell'istinto sono l'esatto contrario molto permissive e quindi gli psicanalisti per esempio uno dei quali è venuto qui qualche tempo fa che fa questo grande successo da così beh è certo che fa successo perché uno che dica che c'è l'inconscio per esempio di cui poi se fosse vero che c'è essendo inconscio non possiamo sapere nulla perché come facciamo a sapere se potessimo saperlo quella parte lì sarebbe conscia e però allora questa è una versione moderna che va bene delle religioni che va bene per l'uomo moderno la psicanalisi è in fondo una specie di versione laica della religione benché poi magari gli psicanalisti non siano religiosi per esempio Freud che è l'iniziatore di questa di questa disciplina beh Freud in realtà poi era ateo benché fosse di origine ebraica ma non credeva ha scritto un bellissimo libro che si chiama l'avvenire di un'illusione che era il tentativo di raccontare quale sarà l'avvenire della religione lui la chiamava una illusione per l'appunto e oggi questo libro è pubblicato insieme a una risposta che invece gli diede uno che stava dall'altra parte che si intitolava l'illusione di un avvenire l'idea che qualcuno ha che ci possa essere un avvenire e così via ma e se per cane o questo ho sentito dei rumori come a bambini ups a volte però non era ancora un qualcosa di strutturato dal punto di vista linguistico però se uno guarda bene la religione la psicanalisi si accorge effettivamente che la psicanalisi è strutturata come se fosse una religione ci sono queste funzioni religiose uno va a confessarsi invece di andare a confessare i peccati da un prete va a raccontare la propria vita da uno psicanalista dove quello lo sta a sentire uno psicanalista che conosco di cui non faccio nome perché una volta io ero un po' scettico sul fatto che lui praticasse la psicanalisi secondo le regole o le non regole di Lacan anche Recalcati lo fa ma non è lui questo per evitare non di dire che poi magari lo dico in maniera indiretta era un altro e Lacan diceva che chiunque può fare lo psicanalista e questo signore di cui sto parlando è uno che aveva una formazione scientifica che a un certo punto si è messo a fare lo psicanalista a praticare la psicanalisi ero e sono un po' scettico su questo e lui mi ha detto guarda tu devi capire una cosa che la gente farebbe qualunque cosa pur di trovare qualcuno che le sta a sentire e forse la psicanalisi è proprio questo si sono inventati l'uovo di Colombo cioè uno si siede non fanno nemmeno finta di stare a sentire perché si siedono dietro di modo che uno non li possa vedere che qua dice ah 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 guarda quando finisce questo no? e così via no? e però uno parla paga per parlare no? e per potersi sfogare e così via la più bella definizione che io conosca della psicanalisi quando tornerà recalcati ma gliel'ho detto una volta non gli è piaciuta è quella che ha dato Nabokov come voi sapete il grande scrittore che scrisse tanti bellissimi romanzi anche molto sofisticati tra l'altro sia come concetti che come linguaggio e ne scrisse però a un certo punto uno che ebbe il grande difetto di fare un enorme successo e questo dà sempre fastidio a tutti gli altri che è successo non ce l'hanno e si chiamava Lolita che già l'inizio di Lolita dice subito che è tutt'altro di quello che uno si può immaginare se ha visto solo il film per esempio perché ve lo ricorderete ah mi è piaciuto anche a te mi ricorderete la frase iniziale di Lolita che inizia proprio così dicendo Lolita e poi c'è un'analisi della disposizione della lingua e dei suoni che queste tre sillabe Lolita vengono generati dal fatto che la lingua gira dentro la bocca subito quello vi dice ma poiché uno ha scritto questo libro e ovviamente gli psicanalisti sono volati addosso a Nabokov e hanno cominciato a dirgli ah sì certo professore con la ragazzina eccetera tu l'hai scritto e dici ma me lo sono inventato te lo sei inventato c'hai un inconscio non sono le cose che tu pensi sei un porco e così via e lui dopo un po' si secò di questa cosa e incominciò a rispondere per le rime chiamava Freud lo stregone viennese chiamava la psicanalisi la psicologia voodoo che uno mette gli spillini così ma poi un giorno gli venne questa bella definizione che io dico sempre per far propaganda a Re Calcate e ai suoi colleghi che la psicanalisi è una cura che consiste nello spalmarsi miti greci sulle parti intime ed è una cosa meravigliosa uno prende Edipo e poi se lo passa la sotto e naturalmente si tocca in quel modo poi dopo si deve andare a confessare dal prete o dallo psicanalista e così via eccetera e gli psicanalisti sono quelli secondo me sono l'esempio classico della superstizione cioè parlare di cose che non esistono di cui non si può dimostrare che non esistono perché in realtà le affermazioni che fanno gli psicanalisti non sono falsificabili come fai a dire che non sono vere cioè sono basate sul nulla non sono come quelle appunto della scienza in cui uno dice ma momento tu stai dicendo questo risaliamo fino a che arriviamo agli assiomi e uno dice ma questa scioma per esempio col mio cuore io non l'accetto e quindi non accetto nemmeno le tue conseguenze là non ci sono ragionamenti ci sono semplicemente degli ukase come si potrebbero dire delle dichiarazioni di verità i religiosi sono esattamente la stessa cosa solo che loro ti dico te la raccontano in una maniera un po' diversa gli scrittori per esempio ma gli scrittori non sono tutti uguali tutti raccontano storie però ci sono gli scrittori veristi per esempio e ci sono gli scrittori fantastici gli scrittori veristi cercano il più vicino di essere il più vicino possibile a quell'altra parte la parte appunto dei ragionamenti verga per esempio o perché qualcuno si possa stupire il primo Dostoevsky se voi avete letto il primo romanzo di Dostoevsky che si chiamava Povera Gente quello romanzo non lo riconoscereste nemmeno se uno non vi dicesse che Dostoevsky direste ma questo assolutamente non è lui era un romanzo appunto alla maniera di verga in cui si raccontava la storia di questi poveracci proprio che vivevano nella San Pietroburgo dell'Ottocento della seconda metà dell'Ottocento vivevano di ripetai uno con l'altro in queste case fattiscenti non avevano una lira si lasciavano un regalino erano un uomo o una donna si lasciavano regalini magari sul tappeto si scrivevano queste lettere quello è un romanzo epistolare ma poi ci sono scrittori come il Dostoevsky successivo che ovviamente sono passati dall'altra parte nel caso di Dostoevsky si sa è esattamente lo stesso caso di Pascal solo che Dostoevsky non ha battuto la testa un giorno andando in carrozza gli è successo molto di peggio voi lo saprete la storia di Dostoevsky in breve è la storia tragica di una persona che aveva un fratello che era un terrorista come lo si chiamerebbe oggi e che attentava o perlomeno pianificava di attentare alla vita dello zar e facevano riunioni questi terroristi e Dostoevsky andava anche lui ogni tanto perché c'era suo fratello finché un giorno arrivò una retata li arrestarono e li condannarono tutti a morte li condannarono e Dostoevsky racconta per esempio nell'Idiota ci sono due o tre pagine bellissime in cui qualcuno si chiede ma come si sarebbe sentito un condannato a morte portato di fronte al plotone di esecuzione e uno legge quelle pagine e si accorge che dice questo sa di che cosa parla certo che lo sapea perché lui è stato portato di fronte al plotone di esecuzione gli è stato messo il cappuccio è stato legato al palo ha sentito il rullare dei tamburi gli è stata letta la sentenza di condanna a morte ha sentito l'ordine di puntare i fucili fuoco e non si è sentito niente invece perché era tutto uno scherzo perché lo zare invece li aveva graziati semplicemente gli aveva dato il confino a vita li aveva mandati nei campi di concentramento però da vivi e lui ebbe la sua seconda crisi di epilessia quel giorno la prima l'aveva avuta quando suo padre era stato ammazzato da un servo e quindi avevano perso appunto il genitore e poi però non gli era mai più venuta da bambino dopo quell'episodio da quel momento lui incominciò di nuovo a soffrire di epilessia e quindi la condanna gli fu tramutata in una condanna al Gulag come l'avrebbe poi chiamato Sol Genizzi molti anni dopo un secolo dopo praticamente e che cosa successe? successe che si trovò in mezzo a gente che era condannata per motivi comuni cioè erano quasi tutti prostitute e assassini e per dieci anni lui praticamente non poteva leggere nessun libro gli era stato proibito di leggere se non la Bibbia e voi potete capire che dopo dieci anni di confino e di campo di concentramento uno che era uno scrittore che ha letto solo la Bibbia e che ha parlato solo con assassini e prostitute cosa fa? scrive Delitto Castigo scrive i fratelli Caromazzov e così diventa uno scrittore di tutt'altro genere e diventa un predicatore infatti qualcuno dei russi compreso Nabokov tra l'altro e non solo Nabokov ma tanti altri Bunin per esempio Tolstoi stesso Tolstoi diceva dei romanzi di Dostoevsky dice i suoi romanzi sono malati Dostoevsky è malato è malato proprio nella testa e i suoi romanzi sono malati come lui Dostoevsky sta da questa parte ed è però la parte che ci affascina perché noi siamo affascinati da queste perversioni da questi pensieri contorti e così via quasi come se fossimo dei guardoni che andiamo a vedere lì l'altra parte è la parte razionale ma non possiamo chiederla a Dostoevsky o meglio ce l'aveva prima appunto il primo Dostoevsky era così Tolstoi appena citato stava dall'altra parte invece tanto che Thomas Mann quando fece un saggio su su un romanzo di Tolstoi disse lui Thomas Mann che stava anche lui dalla parte di Dostoevsky disse in realtà Tolstoi era lo scrittore della carne cioè stava in questo mondo scriveva di cose che accadono la guerra alla pace gli amori eccetera e Dostoevsky invece scriveva di queste cose qua dell'esistenzialismo del male di vivere e così via poi Dostoe è finito come lui perché poi alla fine della sua vita come saprete l'ultimo romanzo Resurrezione è finito male anche lui e l'ultima settimana della sua vita aveva aperto sul tavolino da notte i fratelli Karamazov e poi scappò dalla moglie dalla quale aveva voluto scappare per tutta la vita è scappato gli ultimi sette giorni della sua vita è poi morto in un casello ferroviario eccetera ma mi accorgo che sto non dico divagando perché sto facendo esempi di contrapposizioni tra appunto tra le idee i pregiudizi tra la fisica la metafisica tra la ragione è l'umanesimo anche all'interno dei vari campi cioè ci sono scrittori che stanno più da una parte e quelli che invece stanno più dall'altra la stessa cosa varia per i filosofi i filosofi possono essere filosofi della scienza filosofi analitici di cui probabilmente voi non sapete né il nome né avete mai visto perché non vengono invitati ai festi eccetera anche perché sono più noiosi la filosofia della scienza è un'analisi dei concetti quello che faceva Platone tra l'altro che diceva che quali sono gli oggetti della matematica oggi uno si chiede quali sono gli oggetti della scienza come funziona effettivamente la fisica la chimica eccetera e uno dice beh vedetevela fra voi poi ci sono quegli altri filosofi che sono i filosofi che seguono principalmente gli esistenzialisti Husserl che era un matematico tra l'altro era partito come matematico allievo di un grande matematico che si chiamava Weierstrass poi è partito per la tangente anche lui come Dostoyevsky e poi soprattutto Heidegger il grande impostore come lo vedrebbero coloro che stanno dall'altra parte ma invece il grande santone come lo vedono quelli come Galimberti e anche lui è venuto credo e quindi vedete che e come mai però noi siamo affascinati da tutti questi da recalcati sulla psicanalisi da Galimberti che ci racconta Heidegger eccetera e che tutti tra l'altro hanno tutti la verità in mano cioè se li sentite sembrano che stiano scolpendo col martello e con lo scalpello e dice la verità boom 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 e per finire visto che il tempo sta passando ed è passato forse quello che mi è concesso per cercare di far capire come anche dentro le lettere delle parole a volte si nasconde questa contraposizione vi dico verissimamente in 30 secondi un paio di anagrammi che una volta ho detto appunto a Benedetto XVI il quale come voi sapete aveva ovviamente lui stava da questa parte qua cioè la filosofia alla Heidegger ovviamente Dostoevsky è il grande inquisitore forse anche perché si sentiva raccontato quasi in prima persona da quell'episodio del grande inquisitore essendo stato per 28 anni o 23 anni adesso non ricordo più al santo uffizio e così via e lui ce l'aveva con quelli dell'altra parte che dicono la verità è relativa no? è relativa in che senso? lo diceva pure Pascal no? è quello in senso cioè è relativa perché la verità è qualche cosa che tu dimostri a partire da punti di partenza per l'appunto no? e quindi è relativa agli assiomi se cambia gli assiomi cambiano le verità e lui invece diceva no assolutamente la verità è assoluta è quella che dico io ma lo dico io perché me l'hanno detta no? qualcuno c'è un libro su cui è scritto tutto tra l'altro c'è questo da dire su quelli che stanno da questa parte ed è che le loro verità tra l'altro le prendono nei luoghi più improbabili perché uno dice sono religioso e poi prendo le verità dai Vangeli che sono cose che sappiamo estremamente storiche sono nati duemila anni fa per la predicazione a un popolo di analfabeti se uno li legge in maniera spassionata non è che ci sia tutta questa saggezza dentro no? anzi spesso succedono delle cose che sono abbastanza poco credibili ve ne racconto una tanto per soltanto per farvi dire però per non diciamo così offendere nessuno ve la racconto in maniera metaforica cioè non sulle vite di Gesù ma sulla vita di Pitagora e voi sapete che Pitagora si dice che sia esistito no? insomma la storia noi non c'eravamo ci sono delle vite di Pitagora in particolare Giamblico ne ha scritta una ma ce ne sono tre che in realtà quelle famose che sono però molto successive agli episodi di cui in teoria si racconta però uno non ha mica bisogno di sapere quando sono state scritte per sapere se ci sono delle cose sensate oppure no per esempio Giamblico racconta e dice un allievo di Pitagora l'ha detto proprio lui dice una mattina ho seguito Pitagora che andava al fiume a lavarsi e quando è arrivato vicino al fiume dice l'ha sentito l'allievo il fiume gli ha detto ciao Pitagora ecco voi ridete ma se vi avessi raccontato la stessa cosa no? per esempio di un miracolo di Gesù forse me l'avrebbero riso e come mai? ma perché sono la stessa cosa sono cose che uno legge senza però preoccuparsi di vederne la veridicità e allora l'idea è che in un libro c'è scritto tutto i religiosi hanno quest'idea prendo la Bibbia che sia il vecchio il nuovo testamento secondo di quello che mi serve perché poi nella Bibbia c'è scritto tutto contrario di tutto e sono come le opere di Lenin che quando uno in Russia le faceva studiare all'epoca del comunismo qualunque cosa dovessi giustificare qualcosa trovavi nelle opere di Lenin che te lo giustificava eccetera e gli heideggeriani per esempio non hanno beh adesso oggi loro hanno le opere di Heidegger che vengono trattate esattamente come i Vangeli o come le opere di Lenin dell'Unione Sovietica l'ha detto lui Ipsedixit eccetera ma Heidegger che era il primo di questa nuova impresa lui diceva che bisognava risalire ai presocratici quella era una mossa interessante perché se uno dicesse bisogna risalire ai dialoghi platonici quelli ci sono li leggiamo dice non c'è scritto quello lui dice no bisogna risalire ai presocratici quelli sì che avevano visto giusto e dice sì però dei presocratici non c'è rimasto quasi niente solo dei frammenti o ti dico io cosa c'era dentro e infatti su un libro su Parmenide un libro su quell'altro e buonanotte si poteva fare così e allora cosa ho detto quel giorno a Ratzinger gli ho detto vedi tutti e due noi parliamo della verità la verità otto lettere e infatti poi il libro il nostro si è intitolato così in cammino alla ricerca della verità e gli ho detto in effetti dentro queste otto lettere se uno le anagramma salta fuori la parola ripelata e lui dice ha visto? gli ho detto eh già è certo sembra che abbia ragione lei cioè che è rivelata è un significato che sta dentro alle lettere stesse della verità e però se uno le guarda in un'altra anagramma ci tira fuori relativa e lui gli è piaciuto di meno e dice oh e allora come la mettiamo? e lui che però era una persona spirituosa tra l'altro e anche insomma che seguiva appunto i ragionamenti dove uno lo voleva portare dice è interessante che dietro alle stesse lettere ci siano nascoste questi due aspetti la rivelazione da una parte il relativismo dall'altra contro cui lui faceva la battaglia tutte e due espressioni di una stessa verità poi per bontà d'animo ho evitato di dirgli altri anagrammi che potrebbero essere per esempio evitarla vietarla ancora peggio quello però non ho voluto esagerare e perché non voglio esagerare nemmeno con voi questa sera mi fermo qui a meno che ci siano delle domande o delle critiche che sono ancora più accette e più divertenti naturalmente che le domande e altrimenti ci guardiamo fino a quando non ce ne andiamo oppure fin quando non arriva Oriana che ho visto perlomeno in ombra e anche in carne adesso quindi secondo le due ringrazio ringraziamo il professore Pier Giorgio Di Petti a quando ti andiamo a quando ti andiamo a quando a quando a quando mi 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 è